Sono ben contento e ben lieto di presentarvi Il nuovo trombone Chagarl Fontana della firma Chagarl E' veramente bellissimo, sono tanto contento C'è un fantastico suono, bellissimo suono Devo ringraziare tantissimo la famiglia Chagarl, Carl e Robert E poi Michal pure per tutto quello che hanno fatto per me Per la ricerca che è durata quasi due anni Insomma, ma ce l'abbiamo fatta Avete visto il design è molto bello E il suono meraviglioso Anche la culisse poi che in seguito vi spiegherò E' molto bella, insomma E' veramente un bellissimo strumento Sono tanto tanto contento Adesso volevo spiegarvi la ritorta Avete visto? Questa è la ritorta Chagarl Originale Chagarl E qui vedete Proprio il tragitto è molto breve E' molto molto leggero anche Ho bisogno di premere tanto forte E poi veramente è intonata anche Potete fare anche altre posizioni di ripiego Per dire il Do o anche il Mi bemolle Ed è veramente intonato e perfetto Poi volevo presentarvi anche la culisse Come vedete la distanza è abbastanza grossa Qui insomma Perché? Perché l'ho voluto proprio apposta Che è quasi come il trombone basso E anche la pesantezza della culisse È pesante Perché l'ho voluta apposta Per quello per far sentire un bel suono Bello pastoso Come piace a me È molto molto maschio Diciamo insomma E anche per cantare Perché per me è importante Il suono, il canto Che è la cosa più principale Per questo strumento Come vedete La campana è laccata, ramata E però invece la culisse È proprio dorata Diciamo di ottone dorato Apposta per la pesantezza Ancora di più Per la pesantezza della culisse Per la pesantezza della culisse Un piccolo pezzo virtuoso Insomma avete sentito Insomma la velocità E avete sentito i suoni sopra I acuti e i bassi Anche fortissimo Presi veramente forte Come rimangono sempre belli compatti Insomma è quello che ho voluto sempre Avere i suoni beni Bei suoni centrati Soprattutto per chi suona in orchestra Soprattutto Soprattutto per chi suoni